Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo su Clash Royale come avrete letto dal titolo Dopo tantissimo tempo, siamo ritornati, faremo delle partite normali per farvi vedere se sono migliorato o no, iscrivetevi nei commenti Non mi ricordo se, perché il video che ho fatto ultima notte Clash Royale era tipo un anno fa Quindi, ditemi nei commenti se ho giocato, ditemi se sono migliorato oppure sono sempre lo stesso Comunque il deck è migliorato, poco ma sicuro No, perché poco ma sicuro, è migliorato, cioè il miate non c'è, è posca io neanche, questo neanche, questo neanche Quindi, sì, è migliorato Iniziamo subito con delle partite C'è un'area 12 quindi qualche adena, adesso sono salito, ho giusto qualche La luce fa cattivo, cattivo, cattivo No dai, perché mi è lentamente così, ah sì Ok, dove è l'usca del vigno Se mi fanno torre, mi cavolo Non lo faccio anche io la torre, quindi tranqui Faccio così Lo so, il minatore non fa un danno Fa danno ai muri No, ok, no problem Stiamo tutti giù Ma è possibile non capisce Non colpisce, no, non capisce Sembra che si umbriaca appena lo schiero, il boscaiolo Ma qui ci pensa l'arciario Ok, la torre imparata, io l'ho fatta Sì, l'ho fatta Ok, io ci prendo la prima partita vinta Ne possiamo fare tre Di partita Così a caso ho fatto una missione Non vi preoccupate ragazzi Che subito prendremo tutto Comunque se sono così basso di pass Eh, perché ci ho giocato Quando già il pass c'era tipo Cos'è un masetto Bella questa casa Si poteva anche risparmiare No, le monete Io con le monete non ci faccio niente Perché io all'inizio Essendo che avevo problemi di monete Non le ho più spese Infatti 50.000 monete non ci faccio però niente Sto bene Che cosa serve Sto guardando che cosa serve Quecatello Che cattivi Ok abbiamo capito cattivi noi aspettiamo che fa la partita Madi del team Coscola Coscola come ha messo la streghezza se la poteva anche risparmiare mi ha spiegato una cosa no ma dai c'era il coso che ha spiegato se quanto pesa ah vero stavo per non dire che non ha un luft decente che non ha un inventario tra virgoletto decente non mi prendere il pring del coso come si chiama giovannello lo chiameremo si fa da dubb no come non lo colpisce questo è mafia io allora stavolta è utile stavolta è utile no la torre non la facciamo però se ci rimane la torre la nostra torre è bella stretta ce la facciamo una buona un problema no ho sbagliato ora lo inseguo vero? si se lo inseguo gli faccio un po' di danno e gli metto il rossicone però però più basso più non posso mamma mia che predict la cosa buona del cavaliere nero colpisce più squadra di giber il principe colpisce uno squadra il cavaliere nero non mi ricordo neanche lui il suo nome mi si è messo bene allora tipo lui ora comincia una buona torre fatta ok 2 su 3 vinto vincente grazie non mi chiamo vincenzo però la stessa cosa quante coppie mi sta dando no non ho capito lo so la battuta di prima di vincenzo vincente non voglio offendere nessuno però era molto squallido lo so il bambino ci va preferante ma che chezza ho visto tutto dopo questo dopo questo tutto aveva tutto uguale però io di livello più alto tutto uguale però io tutto di livello più alto lo stregone tutto tutto non ce l'ho mai vado lei sarebbe utile ma non lo userò mai sì forse ce la puoi fare sfigato vabbè comunque la torre c'è la più bassa tu molto più bassa bravissimo dai ma fatemi il zucco il zucco l'unico problema l'unico problema è questa tuta non vorrei spiegarlo sono forte quando non faccio i miei danni lo so infatti non butto questo no dai difendi quanto danno mi ha fatto scusa no dai difendi non 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 ecco si distogga quante l'isir devo avere per aver scurato il petto eh tanto il mio petto lo butto giù lo butto giù lo butto giù lo butto giù sì sì tu metti tutto lì non ti preoccupare nella torre non c'entra niente però almeno hai avuto un po' la sita ce la puoi fare dannazione tu sorella dai dai sì l'ho fatto la torre 3 su 3 vinte ragazzi 3 su 3 vinte 3 su 3 vinte ok prendo la divinità eh la divinità non pensate male non pensate male non pensate male perchè secondo me voi pensate male allora in questo caso non c'è minimamente niente ok quando finisci il pass fra due giorni io dovrei arrivare in realtà ce la potrei fare però se mi metto a giocare tanto ora non ce la posso fare ragazzi che a dire il video si finisce qui ci vedremo in un prossimo video bye 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 bye